signori buongiorno e benvenuta nella settima stagione del canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e dato che a quanto pare non vi siete ancora stancati di sentirmi parlare andremo avanti per un'altra stagione a parlare di giochi di ruolo masteraggio e tutto quello che gira attorno sette anni e mille iscritti se me l'avessero detto quando iniziato gli avrei riso in faccia ormai è tradizione che il primo video di ogni stagione sia qualcosa che riguardi più gli aspetti filosofici del mastering più che qualcosa di pratico quindi manteniamo questa tradizione e iniziamo andando a parlare di qualcosa che i master principianti ma in realtà non solo loro dovrebbero sempre tenere a mente per quanto riguarda il loro atteggiamento verso il provare a fare qualcosa di nuovo il titolo del video lo avete visto questa settimana andiamo a parlare del perché non si può correggere una pagina bianca è molto facile per i master neofiti che non hanno una grande esperienza che magari non hanno proprio esperienza di masteraggio non l'hanno mai fatto prima ma anche per i master che magari di esperienza ne hanno ma stanno cercando di fare qualcosa di diverso al solito magari dopo anni che master ha un determinato sistema però magari a passare ad altro prima volta che un master trad si approccia ai giochi new wave o magari la prima volta che si prova a fare qualcosa di usr comunque quando si esce dalla propria zona di comfort c'è sempre quel panico di sbagliare qualcosa di non essere abbastanza bravi a fare qualcosa e di conseguenza rovinare la serata tutto il tavolo il panico però è un'emozione bloccante e il master che si lascia prendere dal panico dalle novità molto probabilmente andrà incontro al disastro e rimarrà appunto bloccato non riuscirà a capire le regole del nuovo manuale perché sono troppo diverse da quella che era abituato non riuscirà a scrivere la quest perché non ha idea di come funzioni questo nuovo sistema di gioco o non ha proprio idea di come funzioni il gioco potrebbero succedere troppe cose sicuramente fallirò ora io non sono qui per venire a dirvi che non dovete preoccuparsi queste cose non capitano non c'è niente di così difficile anzi queste cose capitano capitano costantemente anche i master più esperti la prima volta e provate a fare qualcosa la sbaglierete e probabilmente anche la seconda e la terza volta la sbaglierete questo è intrinseco nel fatto di provare a fare qualcosa che non si è mai fatto prima ci sono molte possibilità che abbiate frainteso qualcosa non abbiate capito qualcosa e che quindi andate verso il disastro ma anche nel caso voi siate riusciti miracolosamente a fare comunque qualcosa che sia virtualmente perfetto c'è sempre la possibilità che quando portate qualcosa di nuovo al tavolo semplicemente il tavolo non lo apprezzi e quindi la serata comunque andrà male per tutti anche se voi non avete fatto nulla di male e lo so che detta così sembra demoralizzante alla fine se tanto sbaglierete comunque che senso ha provare a fare qualunque cosa nella realtà però questo è proprio qualcosa che va a vostro vantaggio perché ogni volta che provate a fare qualcosa la prima volta non funzionerà la seconda vi funzionerà un po' di più ma probabilmente non funzionerà ancora ma la reiterazione dei tentativi vi porterà a imparare il detto vuole che sbagliando si impara tranne io con la regolazione dell'audio e questo ci porta proprio alla metafora della pagina bianca la pagina bianca è quella su cui voi scriverete la vostra prima quest e fino a quando su quella pagina non ci sarà scritto qualcosa voi non potrete tornare indietro e correggere quello che avete fatto per migliorarlo e vi assicuro la prima quest che farete probabilmente farà schifo e io ricordo le prime quest che ho scritto le ho rilette a distanza di anni e francamente erano ancora più agghiaccianti di come me ne ricordavo però andando avanti e continuando a scrivere e continuando a correggere quello che si è scritto arriverete progressivamente a un deciso miglioramento fino a quando però non scriverete qualcosa su quel foglio bianco voi non avrete una base per capire quali sono i vostri errori cos'è che non riuscite a fare e di conseguenza non avrete nulla su cui basarvi per poter migliorare detto in maniera molto semplice dovete sapere quali sono i vostri errori dovete sapere su che cosa dovete concentrarvi altrimenti non saprete come fare a superare queste difficoltà questo principio normalmente è chiamato failing forward ma failing forward all'interno del mondo dei giochi di ruolo ha un altro significato che non c'entra nulla quindi per evitare confusioni continuiamo a chiamarla la metafora del foglio bianco semplicemente dato che quando si fa qualcosa di nuovo è virtualmente impossibile non sbagliare e comunque è difficile essere effettivamente preparati per qualcosa per cui non si sa per cosa bisogna prepararsi la cosa più logica da fare è semplicemente buttarsi e cercare di fallire il più velocemente possibile in modo da accumulare più esperienza possibile quindi smettere di fallire più rapidamente soprattutto per i master realmente neofiti molto probabilmente se davvero siete alle prime armi starete lavorando assieme a qualcun altro o avete qualcun altro che vi sta facendo da mentore a quel punto la cosa diventa ancora più importante perché fin tanto che non avrete qualcosa da presentare al potenziale altro master questa persona per quando vi possa voler aiutare non avrà alcuna base per capire di che cosa avete bisogno qual è l'aiuto di cui state necessitando andare da una persona dicendogli voglio fare una quest ma non so nulla fondamentalmente non sono informazioni su cui lui possa basarvi per aiutarvi considerate soprattutto che ogni master lavora in una maniera virtualmente unica quindi non è detto che l'altra persona possa avere dell'esperienza che è assimilabile alla vostra magari lui cercando di aiutarvi potrebbe cominciare a spiegarvi delle cose che in realtà per voi erano ovvie quelli non avete mai sbagliate e non rendersi neanche conto che quello che serve a voi è qualcosa che magari per lui è sempre stato scontato e quindi non l'ha mai trovato particolarmente difficile avere lavori da presentare è anche un modo per aiutarsi all'interno della comunità dei master mettere nero sul bianco il vostro lavoro comunque vi torna utile anche se non dovete farlo fisicamente vedere a qualcun altro e quando io parlo di scrivere non vuol dire letteralmente mettersi lì a scrivere ma comunque tenere a mente segnarsi puntarsi per esempio magari avete un'idea per una quest magari anche solo per un arco narrativo anche solamente per un singolo png quindi scrivetevela da qualche parte appuntatevela per evitare di dimenticarvela ma prima di prenderla e buttarla immediatamente in gioco aspettate qualche giorno tornate e rileggetela questo è già un altro dei passaggi del correggere la pagina bianca dopo che è passato qualche giorno rileggendo l'idea siete ancora convinti che sia un'idea così buona il fatto di dover rielaborare quello che è un'idea che dobbiate scriverla magari anche solo raccontandola a qualcun altro vi costringe a fare mente locale su quello che avete fatto e di conseguenza intercettare tutti quelli che potrebbero essere gli errori più banali se magari nella vostra testa l'idea era spettacolare ma quando cercate di spiegarlo a un vostro amico lui non ci capisce assolutamente niente è evidente che c'è qualcosa di sbagliato in quello che avete fatto provate a rispiegargliela fino a quando non la capisce in questo modo capirete cos'è che non andava bene nella vostra idea ricordatevi che lo scopo di fare degli errori è quello di non farne più in seguito quindi non c'è niente di male nello sbagliare soprattutto quando non siete perfettamente padroni di quello che state facendo ma evitare di fare per evitare di sbagliare semplicemente non è una soluzione e anzi per voi è un danno perché vi impedisce qualsiasi forma di miglioramento diciamo che per questo video è tutto adesso probabilmente già dalla prossima settimana riprenderemo l'argomento sandbox che ci porteremo avanti almeno per la prima metà di questa stagione e l'abbiamo iniziata alla metà della stagione scorsa prima della pausa estiva sì è decisamente un argomento lungo ma dato che siamo solo all'inizio della stagione e la maggior parte del calendario di quest'anno è praticamente vuota questa è la vostra occasione per proporre cose a cui voi siete interessati scrivetemi tutto nei commenti qui sotto e scrivetemi anche se voi avete mai avuto la sindrome della pagina bianca o il blocco dello scrittore o fallito nel feeling forward come volete chiamarlo come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se non ricevete le notifiche in descrizione trovate i link al gruppo telegram al gruppo e discord su cui metto io manualmente in ogni video che esce così non ve li perdete dove trovate anche il resto della community io sono il Master Ka e noi ci vediamo nel prossimo video ciao